La fiducia del Parlamento con l'Alleanza 5 Stelle PD-LEU, questo cambierà il quadro anche a livello locale in vista delle imminenti elezioni regionali? Lo abbiamo chiesto ad Andrea Bertani, capogruppo in Assemblea Legislativa del Movimento 5 Stelle. Il livello nazionale è sicuramente diverso dal livello locale, in politica mai dire mai, però come l'avremmo detto probabilmente anche a livello nazionale, in regione la situazione è molto diversa e ancora ci sono grossissime distanze, quando mai ci saranno discontinuità anche da parte del PD, forse si potranno mai aprire dei ragionamenti, ma al momento è una soluzione altamente improbabile. Voi avete individuato un candidato? Ancora no, perché non sappiamo neanche la data delle elezioni, fra l'altro noi crediamo che la data delle elezioni non vada individuata in base ai sondaggi, fra l'altro come faceva Salvini e forse come sta facendo Bonaccini. Dopo le dimissioni del coordinatore regionale Massimo Bugani dalla segreteria di Di Maio, il Movimento ha trovato un nuovo assetto organizzativo? C'è un momento di riorganizzazione, doveva esserci un incontro con Luigi Di Maio, che purtroppo ha saltato proprio per la crisi di governo. A livello regionale, per le regioni più grandi ci saranno cinque coordinatori, il progetto è in cammino in tutte le regioni e speriamo che anche in Regione Emilia Romagna si concluda questo processo di riorganizzazione che in parte è già stato votato anche su Russo. Grazie. Grazie.